Come va? E bentornati sul mio canale. Prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi al mio canale di YouTube qui sotto e di attivare anche la campanellina così starete sempre aggiornati su tutte le prossime novità, proprio come in questo video. Infatti sto ricevendo dei messaggi dove mi state segnalando che è previsto un nuovo pagamento di assegno unico di aprile. Sembra infatti che ci siano altre due nuove date. Intanto partiamo dalla prima. La prima che vedete è quella del 19 di aprile, quindi dopo la festività e poi mi state segnalando anche, qualcuno mi ha scritto appunto per avvisarmi di questo, che ha già visto un'altra data di pagamento, che è quella del 14 di aprile, quindi quella di giovedì, giovedì, giovedì 14. Quindi vi ho fatto questo breve video solo per informarvi di queste due nuove, queste due nuove date e come sempre se avete altre date di aggiornamento e volete condividerle con noi, con me, con tutti quanti, basta che me lo segnalate qui sotto nei commenti così io posso prendere nota, verificare e poi fare un video lampo, diciamo flash, proprio come quello che state guardando in questo momento. Diciamo che il video finisce qui, era solo per informarvi di questa data. Vi ricordo che se avete altre richieste potete farmele qui sotto e come sempre iscrivetevi al mio canale di YouTube, attivate la campanellina così come vedete non perderete nessun prossimo aggiornamento. Ci vediamo in un prossimo, con un prossimo video sempre qui sul mio canale di YouTube. Vi aspetto, ciao!